Era da un po' come devo fare questo video perché è un video extra, un video che secondo me piacerà a tantissimi come si può investire su Bitcoin a capitale protetto, si lo so avete sentito bene questa cosa negli ultimi anni a causa di quello che è successo legato al tasso di inflazione e all'incremento del tasso di inflazione e di conseguenza l'aumento anche dei tassi di interesse da parte delle banche centrali europee in questo caso ritorna in auge questo sistema, questo modo di investire che può essere anche utile a chi investe in Bitcoin in questo determinato momento o chi magari vuole decidere se effettivamente l'investimento in Bitcoin può essere adatto o non adatto però ha paura di rischiare quindi non vuole rischiare tantissimo, non vuole rischiare parte del suo capitale esiste un modo che vi consente di poter investire anche su Bitcoin, ovviamente non solo Bitcoin ma anche tanti altri asset avendo il capitale protetto e si può costruire senza dover chiamare nessuno al telefono il promotore consulente, i finti consulenti eccetera che fanno queste cose non dovete avvisare l'istituto di credito, non dovete chiamare nessuno, potete farlo voi è semplicissimo, banalissimo, quattro regole, esemplari, trasparenti, facili da comprendere tutti i calcoli in questo video, lasciatemi un pollicione in su, lasciatemi anche un mi piace iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video lo dico adesso, lancio anche la moneta e si parte, e beh non è uscito bene e si parte con le slide e con le slide ragazzi allora costruire un prodotto da autonomo quindi senza dover chiamare nessuna banca o roba del genere posta o assicurazione eccetera da soli di bitcoin a capitale protetto si può fare e si fa in questo modo allora prima slide a disposizione che cos'è ovviamente capitale protetto ma prima di tutto dobbiamo parlare del disclaimer questo video non è assolutamente, non costituisce assolutamente un consiglio finanziario ma solo ragionamenti standard, esplicazioni di insegnamenti finanziari standard atti solo esclusivamente a fornirvi quelle che sono delle idee sulle quali poter ragionare e poi fare i vostri compiti a casa ragazzi e verificare se sono idonei ai vostri gradi di rischio e tutto quello che c'è dietro per comprendere se effettivamente può essere adatto a voi investire nei mercati finanziari è sempre e comunque estremamente rischioso letto questo disclaimer che vi ripeto, ribadisco dovete fare il fermo immagine e andarlo a leggere perché è corretto così non sono consigli finanziari cos'è un investimento a capitale protetto? molto semplice il capitale protetto è un investimento che consente di escludere l'esito aleatorio del rischio di oscillazione di mercato non esclude tutti i rischi infatti alla fine di questo video vi spiegherò perché effettivamente il capitale protetto anche se si chiama capitale protetto ed è corretto perché il capitale è garantito non può costituire comunque un'esenzione totale dai rischi perché c'è sempre una cosettina da andare a controllare quello che però andiamo a eliminare in questo modo è l'aleatorietà dell'oscillazione del mercato che è quello che ci serve a noi quando andiamo a parlare di criptovalute e di bitcoin quindi è possibile avere un sistema che dopo un tot di tempo a prescindere dal fatto che io abbia investito meno su bitcoin mi consente di avere comunque il mio capitale di partenza anche se bitcoin è fallito è azzerato cioè se vale zero assolutamente e si può fare assolutamente sì e si fa in questo modo si crea combinando l'investimento in un prodotto che genera un reddito fisso con l'investimento di un prodotto che genera reddito aleatorio di natura speculativa quindi mi servono due tipologie di asset finanziari con uno io creerò quello che è un asset fisso quindi che è un reddito fisso un rendimento fisso con l'altro io andò invece a creare un rendimento aleatorio speculativo quindi con uno io cerco la garanzia della sicurezza con l'altra io cerco la speculazione l'impennata del mio tasso di rendimento in questo modo bilanciando le quote del capitale a reddito fisso con le quote del capitale a reddito aleatorio io posso creare un prodotto a capitale garantito anche dopo dieci anni e quindi io potrò investire il mio capitale speculativo in maniera libera, autonoma completamente pur sapendo di avere una garanzia stretta sul capitale che era il mio capitale di partenza la maggior parte del capitale ovviamente sarà da destinare al reddito fisso e di solito si utilizza la formula del 80-20 non è così precisa dipende poi chiaramente da quello che è il tasso di rendimento del capitale a reddito fisso può essere più o meno alto quindi di solito si gira intorno all'80-20 80-20, 70-30, 75-25 eccetera ho anche un esempio in questo caso ed è precisamente 74-26 giusto per spiegarvi quindi più o meno ruota intorno a questa formula allora il capitale protetto si gestisce in questo modo la parte della torta blu che vedete in questo caso è la parte destinata al capitale a reddito fisso la parte invece color bitcoin è quella speculativa destinata al capitale a reddito speculativo non può essere anche non bitcoin nelle cripto possono essere anche investimenti di natura estremamente speculativa come le azioni ma non magari virtuolute andiamo avanti allora i vantaggi della costruzione di un bitcoin a capitale protetto vantaggi protezione del capitale questo è ovvio non lo facciamo per questo motivo cioè avere la garanzia a prescindere che il mio capitale di partenza dopo 10 anni sarà completamente identico intatto e allo stesso tempo poter valutare e poter gestire quello che è un investimento speculativo ad esempio in un mercato fortemente aleatorio come quello delle criptovalute o anche altri capitali e altri mercati simili secondo vantaggio rendimento potenziale discreto perché abbiamo un rendimento importante in quanto noi abbiamo un rendimento dovuto al capitale fisso che comunque resta garantito vi spiegherò alla fine del video che significa garantito ragazzi perché vi ho già anticipato che i capitali garantiti non esistono in maniera definitiva ci sono delle considerazioni di andare a fare nessun capitale garantito neanche quelli che vi hanno proposto inventandosi questa dicitura non sono garantiti ve lo spiego alla fine del video però allo stesso tempo con la parte speculativa è comunque possibile avere un rendimento maggiore rispetto a quello che io ho dal capitale garantito perché unisco due forme di rendimento da una parte il rendimento a capitale garantito che è piccolo e basso dall'altro invece quello speculativo che può essere molto ampio come per esempio nel caso delle criptovalute può essere discretamente elevato partecipazione ad investimenti più speculativi è l'altro vantaggio perché io in questo modo anche se sono un investitore magari prudenziale che non vuole rischiare non vuole fare niente di che posso comunque partecipare ad investimenti estremamente speculativi perché mi sento più tranquillo più sicuro anche una percezione del rischio perché io so che magari dopo il tempo passato che ho dedicato a questo investimento a prescindere dall'andamento del mio investimento speculativo aleatorio comunque il mio capitale sarà restituito e questo diciamo mi fa stare mi fa magari dormire sogni tranquilli andiamo a vedere gli svantaggi invece di questo tipo di prodotto e sono questi i rendimenti sono limitati non possiamo avere rendimenti molto molto alti perché ovviamente abbiamo una garanzia di capitale quindi nel momento in cui abbiamo una garanzia di capitale aspettarci rendimenti molto elevati è un po' difficile e quindi è giusto così quindi i rendimenti possono essere più elevati ovviamente di quelli a capitale a rendito fisso sono sicuramente più elevati potrebbero essere però non tanto elevati come quelli degli investimenti speculativi che potrebbero essere molto più elevati chiaramente rischiando tutto il capitale serve tanta liquidità non tantissima però serve un po' di liquidità ovviamente già ragionando su una liquidità di 10.000 euro è accettabile sotto diventa un po' una cosa un gioco che forse non vale la candela poi adesso vi farò vedere questa cosa i tempi lunghi per la protezione allora per costruire una protezione di capitale almeno gli attuali tassi di interesse quelli che ci sono in questo momento abbiamo bisogno di tempi lunghi quindi non è possibile costruire un prodotto a capitale protetto con tempi molto brevi un anno o due anni ci servono 5 barra 10 anni in questo caso io farò un esempio a 9 anni e mezzo quasi 10 anni per quanto riguarda la costruzione di capitale protetto che è già attuabile insomma in questo momento su bitcoin costruiamola allora insieme andando a utilizzare appunto bitcoin come collaterale a proposito volevo dirvi una chicca in questo caso è possibile anche utilizzare ethereum oltre che bitcoin non so le altre cripto sinceramente non lo farei una prodotta del genere sulle altre cripto perché non mi sento di poter immaginare che magari alcuni progetti di cripto volute possono perdurare per decenni già non abbiamo la sicurezza su bitcoin ed ethereum figuriamoci tante altre quindi essendo questo un prodotto che è pensato per essere un po' garantista andare a cercare di speculare in maniera eccessiva mi sembra un po' fuori dalle righe però nulla toglie che potete comunque farlo monitorando quello che è l'investimento di natura speculativa e magari agendo a livello di trading andando a togliere la parte magari in inversione di trend di bassista insomma agendo come trader a quel punto se siete formati e ovviamente ragazzi vi incito a formarvi in questa fase soprattutto avete visto che livelli abbiamo raggiunto con bitcoin nessuno ancora ne parla vi ricordate un anno fa novembre 2022 tutti inneggiavano a ribasso a ribasso a ribasso invece il trend è la cosa più importante ed è quello che effettivamente cambia le sorti quindi formatevi sempre molto molto rilevanti perciò io vi dico che secondo me si può costruire utilizzando anche ethereum però diciamo non andrei oltre quella crypto e poi utilizzando per esempio degli etf nel mercato azionario ma sarebbe presumibilmente meglio utilizzare prodotti più speculativi degli etf quindi direi azioni singole in quel caso o commodity ma meglio azioni insomma le crypto però sono secondo me è proprio la scelta ad occhio per questo tipo di prodotto soprattutto bitcoin capitale protetto l'esempio lo farò con 100.000 euro però si può fare tranquillamente anche utilizzando 10.000 euro vi ripeto scendendo a 1.000 euro mi sembra un gioco un po' che non vale la candela però si può comunque realizzare anzi scusate 1.000 euro non si può realizzare per una questione collegata ai lotti minimi degli acquisti che faremo del capitale al reddito fisso che sono titoli di stato quindi non è proprio possibile utilizzarlo al di sotto di quei livelli di quelle liquidità punto numero 1 come si procede trovare uno strumento a reddito fisso un'obbligazione useremo i titoli di stato se siete residenti italiani per esempio vi conviene utilizzare i titoli di stato italiani se siete residenti in un altro stato vi conviene utilizzare i titoli di stato di quell'altro stato a meno che non siete magari residenti in stati dove i titoli di stato hanno poco rendimento potete utilizzare in quel caso il treasury bond degli stati uniti in dollari ancora meglio perché non c'è il rischio cambio io farò l'esempio con un titolo di stato italiano perché ovviamente parliamo lingua italiana però è corretto utilizzare anche un treasury americano un decennale che rende anche un po' di più di quello italiano in questo momento quindi si ottiene una copertura maggiore in minor tempo insomma e tra l'altro dollaro con dollaro quindi non c'è il rischio cambio invece in questo contesto specifico quello che andremo a fare è ipotizzare che fra dieci anni il cambio euro dollaro sarà identico e questo è un'ipotesi abbastanza forte però non ho così anomala perché comunque parliamo di due valute estremamente potenti estremamente forti che super giù oscillano intorno più o meno un cambio costante nell'arco dei tempi anche se all'inizio insomma tantissimi anni fa l'euro era molto più alto però ipotizziamo questo ragazzi per semplicità dei calcoli altrimenti utilizzate treasury bond al posto delle obbligazioni di titolo di stato italiano e comprate quelli americani e siete sulla stessa moneta allora io ho fatto un esempio con un BTP italiano a capitale garantito BTP futura a scadenza 2033 per avere ovviamente nove anni e qualcosa circa non c'è la precisione appunto del decennio questo titolo di stato rende il 3,62% netto a scadenza utilizzato di rendimento netto non il lordo per coerenza e in pratica cosa significa che dopo 10 anni io otterrò sul mio capitale investito su questo titolo di stato circa il 35% in più di rendimento netto questo 35% in più tra le altre cose sarà un po' tassato un po' no in questo caso ipotizziamo che la tassazione sia identica perché comunque sarà tassata anche la parte speculativa però mi preve ricordarvi che io ho scelto appositamente un titolo di stato che quota sotto la pari in modo tale da posticipare la tassazione solo esclusivamente alla fine di questa struttura di capitale protetto è vero che è una piccola cedola c'è comunque questa tra l'altro è un capitale garantito è un titolo di stato a step up come cedola quindi la cedola salirà nel corso dei prossimi anni però è piccolina quindi l'impatto della tassazione sarà comunque un po' più minimizzato c'è comunque l'impatto della tassazione quindi il capitale protetto esente dal rischio capitale ma dovete mettere in conto che sarà un po' di meno alla fine se ad esempio sa zera la parte speculativa perché ci sarà la parte del rendito fisso che viene tassata a differenza di quella speculativa che se magari sia zera poi non viene tassato in ogni caso c'è il recupero della minusvalenza perché con l'incremento del prezzo della obbligazione quella vi farà comunque da recupero della minusvalenza quindi l'effetto congiunto sarà veramente abbastanza minimale andando avanti dopo dieci anni circoterò appunto il 35% investo nel titolo al rendimento fisso il capitale corretto che è compreso il rendimento mi farà ottenere il mio capitale di partenza iniziale a questo punto cosa devo fare devo calcolarmi quanto capitale devo investire sul titolo di stato per ottenere dopo dieci anni nove anni e mezzo in questo caso il mio capitale di partenza cioè io parto da 100.000 quindi investirò in questo caso 74.000 euro per ottenere alla fine i miei 100.000 euro in termini pratici vi ho fatto anche il calcolo quindi capitale investito ad oggi quando sto registrando il video 74.000 dollari quote acquistate 925 la cedro l'ho dovuta modificare perché vi ripeto quella è una step up capitale finale io otterrò circa 100.000 euro quindi dopo quanti nove anni guardate qui nove anni e 76 nove anni e mezzo perché quel titolo è novembre 2023 ora siamo a febbraio 2024 quindi sono nove anni quasi dieci quasi dieci anni quindi in pratica io ho un prodotto ho acquistato 74.000 euro del mio prodotto capitale garantito che è un titolo di stato e mi renderà alla fine della scadenza scadenza 100.000 euro attenzione a scadenza è importante questa cosa ciò significa però che mi restano 26.000 euro liberi dove io posso andare a utilizzarmi appunto andando a comprare quello che è il mio capitale speculativo quindi investo 74.000 euro nel BTP mi restano 26.000 euro di capitale che posso utilizzare per investimenti di natura speculativa ed è quello che noi andremo appunto a fare quindi dopo 10 anni avrò il mio capitale di partenza anche se gli investimenti speculativi saranno andati male attenzione anche se si azzerano quindi io comunque separo zero con il mio capitale speculativo quindi investo in cripto folli perdo tutto follia non fatelo assolutamente io avrò comunque il mio capitale garantito a meno di un evento che ve lo dico dopo alla fine del video in questo caso quindi facciamo poi a un certo punto la questione è legata alle proiezioni per capire quanto effettivamente poi in maniera coerente potremmo fare allora io vi ho fatto una sola proiezione ragazzi perché le altre sono banali alla fine parliamo di un futuro decennale nessuno sa quello che può succedere bando alle ciance nessun dato storico ci può dire cosa succederà nell'arco dei prossimi 10 anni però per gli amanti delle criptovalute come noi noi siamo ben speranzosi e mi sembrava corretto ragionare anche sulla potenzialità di bitcoin ora prendere i dati storici di bitcoin negli ultimi 10 anni e attualizzarli è una follia perché avremo rendimenti stellari che secondo me sono folli nel prossimo futuro perciò io ho calcolato dei rendimenti banali semplici puliti eleganti ma anche forse anche ottenibili che poi è questo il discorso cioè il 12% all'anno qualcuno di voi sorride perché il 12% bitcoin lo fa a volte in uno al giorno però dovete considerare che magari farà 2-3 per market siete un macello magari in questi 10 anni se ancora esisterà sempre eccetera magari alcuni dicono però in linea di massima io gli ho dato un 12% all'anno di rendimento così per fare una stima andiamo a vedere i calcoli allora proiezione crescita del capitale fisso uguale 26.000 euro quindi il mio capitale fisso guadagna 26.000 euro su quello che ho investito ma quanto sarà invece il rendimento del capitale che io investo in bitcoin se vado ad ottenere un interesse del 12% annuo è ovviamente composto perché nel caso di bitcoin essendo come un titolo azionario l'interesse sarà interesse composto perché io quando guadagno poi guadagno c'è un capitale che aumenta 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 quindi è un interesse composto io ovviamente ho fatto il calcolo dell'interesse composto a livello annuale quindi non è neanche giornaliero roba del genere il capitale finale di quei 26.000 euro che sono investiti nel mercato delle cripto potrebbe arrivare a 85.000 euro qualora bitcoin avesse appunto nei prossimi 10 anni un rendimento annuo medio del 12% negli anni scorsi ne ha avuto molto più alto ma mi sembrava appunto folle ragionare in questo modo ho preferito aggiungere un po' di pepe al rendimento azionario classico che è intorno all'8% quindi ho detto vabbè sono più speculativi diciamo il 12 ecco una cosa del genere quindi credo di essermi mantenuto abbastanza coerente e stabile quindi a meno di fallimento di tutti i progetti delle criptovalute non credo che il rendimento sarà più basso o fallisce proprio e quindi sia a zero ma appunto esiste il capitale protetto o sarà teoricamente più alto andiamo a vedere la situazione finale capitale finale dopo 10 anni i miei capitali saranno i 100.000 euro del capitale protetto e i 85.000 euro del capitale quello speculativo speculativo su bitcoin quindi 185.000 euro dopo 10 anni come vedete il rendimento non è stellare perché comunque non è il rendimento che potrei ottenere magari investendo tutto nell'ambito speculativo ma vi ripeto è un prodotto costruito a capitale garantito quindi è semplicissimo comprate il titolo di stato fate il calcolo del capitale da mettere il restante investito su bitcoin aspettate 10 anni stop fine dei giochi ovviamente cosa può andare male adesso adesso abbiamo fatto tutti questi calcoli adesso vediamo cosa può andare male perché è interessante la cosa più importante che può andare male che può andare a star non è legata a bitcoin e questa è la cosa bella non è legata alle cripto perché se ok scende la cripto si a zero perdete il 50% su bitcoin avete comunque guadagnato perché alla fine dei 10 anni avrete il capitale garantito più il bitcoin rimasti che magari valgono la metà ipotizzando dopo 10 anni si a zero a bitcoin esplode la blockchain satoshi diventa il nuovo idolo dei meme a quel punto avete comunque il vostro capitale si è vero non avete un capitale garantito all'inflazione perché magari l'inflazione avrà eroso il potere d'acquisto si poteva utilizzare meglio il capitale assolutamente sì ma c'è sempre il gioco che vale la candela in questo caso non è che stiamo facendo i pazzi comunque stiamo acquistando un asset che gli stessi etf found manager hanno ritenuto opportuno inserire nei loro portafogli e sicuramente non lo fanno per investire da qui ai prossimi due anni lo fanno a tempi molto lunghi quindi non è una follia in generale è una cosa intelligente è una cosa interessante però può andare storto un'altra cosa che è la cosa più importante che impiatterebbe in maniera devastante su questa cosa qui ed è questo ragazzi il fallimento dello Stato e mancato pagamento delle obbligazioni solo e solo in questo caso il capitale protetto che saluto non funziona perché ovviamente non vi restituiscono i soldi che voi avete prestato allo Stato è possibile il fallimento dello Stato? bah alcune volte è già successo per chi non lo sapesse mi pare l'Italia un paio di volte dovrebbe essere successo l'ultimo più vicino è stato il 1992 in cui si era andato vicino a questo default che poi non è avvenuto per un prelievo 4 forzato di 4 spicci comunque sui conti correnti poi salvato insomma tutto e poi restituito quell'importo che era comunque 4 spicci se non ricordo male adesso non mi ricordo quindi so diciamo che è un evento diciamo un po' biblico però può succedere può succedere anche se investite negli Stati Uniti può succedere comunque questo è l'unico evento vero che danneggia perché l'investimento speculativo noi siamo a conoscenza del fatto che sia speculativo e quindi può azzerarsi l'investimento a capitale protetto no e quindi lì abbiamo tanto capitale se va male quello lì abbiamo perso questo è il vero rischio allora il capitale garantito esiste sì o no? esiste sì perché per definizione definibile capitale garantito qualcosa che è prestato a un titolo di Stato però se lo Stato fallisce non vi garantisce il capitale ricordatevi che il rischio emittente si chiama così resta sempre valido ed esiste qualsiasi cosa voi facciate è vero che alcuni di voi diranno ah se io tengo i soldi liquidi non esiste il rischio emittente esiste come? perché i soldi liquidi ve li prelevano dalla banca per pagare i debitori quindi esiste e come? perché ricordatevi che lo Stato può prelevarli tranquillamente essendo padrone proprietario anche dei nostri soldi che sono presenti in banca non quelli nei wallet di Bitcoin vabbè allora detto detto questo spero di avrebbe insomma delucidato su questa cosa vi ribadisco il disclaimer che è importantissimo fate screenshot e rileggetelo capitale garantiti sull'ecritto vi è piaciuto questo video lasciatemi i polliccioni fatemi sapere cosa ne pensate chi di voi magari gli esce in testa di analizzarlo per poi strutturarne uno per se stesso fatemelo sapere ciao a tutti buon weekend a tutti